ragazzi benvenuti bei torni sul mio canale, io sono macrosessia ma qui sotto la turnfall 2 dobbiamo riparare il modulo direzionale manualmente perché naturalmente non ha funzionato e noi pensavamo di risolvere attivando tutta l'energia troppo facile troppo facile vabbè quindi andiamo avanti nella speranza ma posso? vieni per tu che dici? o ci dobbiamo andare per forza ad azione? no non penso che possiamo anche andarci in serena compagnia, stati qua quindi capirai? anche perché c'è la nebbia e la nebbia ha gli articoli di origine le sanzioni indicano un pilota caduto la mia memoria lo ricordo come un combattente eccezionale durante l'operazione rottura cos'è rottura? rottura è un codice di un'importante operazione di rifornimento condotta dalla milizia sul pianeta victor abbiamo subito molte perdite ma la flotta è sopravvissuta vabbè che faccio? si è tanto penso che è palesemente chiaro dove vai? dove vai? perché vai qua? ah perché devi passare qui tu? le sanzioni rilevano un modulo direzionale in funzione 428 metri a nord est le analisi indicano che il lancio è l'unica opzione posso lanciarti oltre lo spazio vuoto ma in che senso lanciarmi? sei sicuro? probabilità di successo 68 per cento oh ok che non risica non rosica ma è poco questo pensiero non è vero ma ho manco detto di signo vento 3 nobi direzione 274 distanza 95 metri peso proiettile 89 chilogrammi fidati di me e 68 per cento anche mi fido ecco ok vabbè bel lancio non c'è di che pilota buona fortuna laggiù allora noi dovremmo andare di casa a tutte le unità di sicurezza qui a Richter raggiungete subito il trasmettitore trovate quel verme non deludetemi ricevuto zulu 1 chilo 1 convergete alfa 2 mandate soldati a terra porca miseria tutti quanti contro di me state a volte i percorsi sono un po' strani cioè io non capisco guarda che di qua ah forse devo via questo no si si dici di qua vabbè speriamo che sia che sia la scelta giusta la vita è l'imc verso di te ah già vai occhio occhio è preso si qui matta ragazzi tutti quanti state qua uff cazzote cazzote occhio 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 ci vogliono cambiare arma vediamo se questo è meglio eh sembra di sì ma come è potuto aprire sto eh di qua non saprei sempre di da occhio qua allora la ce ne stanno parecchi io dobbiamo andare di da non è che ho ben capito come funziona sta cosa questo mi riporta giù quello mi riporta su ma potevamo pure scendere orca di terra miseria ok ok ma dove spano Ah, quelli spavano da pazzo Oh, però non vale Siete un po' troppi, secondo me È andato, penso Uff Come si è Uff, 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 uff Però come cavolo spavano Momento, momento, momento Oh, porca putt... Vabbè, ma come si fa a cadere così? Passiamo di qua che prima siamo caduti, eh Madonna mia Comunque vediamo dei cazzotti Che sono qualcosa di spettacolare Non c'è qui nessuno, no? Allora, noi dovremmo andare di là Ce la fai? Ok Ok Supporto, supporto Ok, allora, qua non c'è niente Sempre di là dobbiamo andare Vabbè Alla bomba Abbiamo lanciato una bomba Che fine ha fatto? Vabbè Allora Certo che è lontanissima Allora io penso che devo spostare Uff Allora Sì Non è che ce la facevamo lo stesso Puoi assaltare, no? Grande ragazzi che siete bravi Non mi fate niente Siamo tutti amici Ci vogliamo tutti bene E lasciami Allora Qua ce ne sta un altro Non so Allora Un momento che non ho capito Che non ho capito che dovevo andare là Secondo me abbiamo sbagliato Ah Alla ci sta una cosa per noi Dici che ce la fai a fare Che grande Allora Muovi su E muovi giù Scusa Come faccio a andare dall'altra parte? Ah Forse devo ritornare un'altra volta di là Poi Ammire E dai Ma che è Ma che è sta camminando Vabbè Stiamo andando malino Non ce la farò mai No Ho sbagliato qualcosa Secondo me Allora Secondo me Odio può aggiustare pure questa Che non è possibile Spera Ok Vabbè Vai Ok Sembrava che non ce la facessimo ad arrivare E invece Secondo me qua devo fare una cosa spettacolare Ok Vai Perfetto Sempre qua E mi sai che è sbagliato Mi chiede d'acqua Secondo me Ok 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 Eh sì Confirma È morto È morto Ma che sto girando torno torno dici Mi sai che ho sbagliato Allora Momento Perché secondo me siamo dando un po' di nuve Devo andare di là secondo me Quindi Lo metto qua Vabbè Guarda Ma che fai chiudito l'ascensore E che sta chiuso qua Che 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 Ma come ne eravamo amici No Eravamo amici Un tempo Eravamo amici Questa volta Vediamo di non farci pegare Ma le bombe Non scontano più Ma che Ma che C'è qualcuno che ci sta sparando Non vedo il pilota Manco io lo vedo Come fanno a A A A becchiarmi lo stesso Ciao ragazzi Voi siete sempre amici Sì Bella questa Che fai Scappate ragazzi Ma questi fanno la rigirata Ah allora funzionano le bombe Ciao Ciao Ah scusami Forse quello Era nostro amico Non ho film proiettili qua Sì E allora cambiamo Che ci avete da offrire Beh Vabbè Fa niente Vabbè Magari questo È Il migliore All'atto pratico Modulo direzionale rilevato Controlla il tuad Solo uno sei La squadra Trasmettitore quattro È stata eliminata Forse il pilota Prova a trasmettere Da lì Julu 1 6 A Richter Non sappiamo le intenzioni Del pilota Potrebbe tentare Di allontanarci dal Titan No Concentratevi sul pilota Ho altri piani Per il Titan E E come ci arrivo L'asso Qua Scusate Vediamo un po' di capire Perché non è che ho ben capito Ragazzi Stare sempre a lavorare Siamo amici Sì Beh Ho viattivato Ma Non penso Se abbiamo delle turbine Eh Aspetta Perché da qua Non penso Allo becco No Ma non penso Anche ad arrivare Fin là Quindi in modo Ma non penso Che sia questo Allora Aspetta un attimo Che non ho capito Che dobbiamo fare Sì ragazzi Vi do Via libera Magari Forse Se salgo in alto Riesco a fare qualcosa Ok Bene Sei ai comandi Muovi la parabola Verso l'estrema destra Per avvicinarla Arpa 2-1 Non è ancora morto Datemi un aggiornamento Passo Richter servono rinforzi Pilota nemico ancora attivo Al trasmettitore 4 Passo Rinforzi I soliti smitollati Dell'INC Invio rinforzi Che rinforzi Scusami Ma questi dovrebbero stare Alla parte nostra Ma perché non si era rinforzi Uoah Ma rogaro Ma Vabbè Ma questi non sono rinforzi Scusami Vediamo un po' Perché ho capito Che È andato È andato Ok Vecchiato Non Direzionarmi troppo Grande Vedi dove qualcuno Sta lavorando per noi E questo mi fa molto piacere Ah Già finiti tutti i proiettini Vecchiato? Dov'hai? Dove stai? Grande Occhio per non so Ok Ah Di sta qua Sta qua No ci sto sempre Ah via Pure da lontano Prendi Allora Penso che il modulo Ancora qua Sta raga Ah Tutti e due Che schifo Dovremmo farci Il modulo è nel proiettore Di quella parabola Sì Ok Qua? Vai Modulo direzionale Disconnesso Aggiornamento missione Protocollo 2 Modulo acquisito Attendo il tuo ritorno Cooper Attenzione Avvio modalità manutenzione Ok Arpa 2 1 Aggiornamento Rispondete Dannazione Cavolo Ok Ok Dove vado Ok ok a ruota mamma mia ero convinto quale cavo? dove cavo? io dovrei scendere perché non ho capito dove dovevo andare e forse ho capito che dovevo fare forse di qua cercavo da sopra tutti qua state? sto attaccando la fanteria ho capito ho capito prima delle riparazioni consiglio di prendere il controllo dell'area che è il vorrei cercare di... arriva 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 la cabina è in va sto attaccando la fanteria modalità flota in va questo non sembra male eh non si riesce a saltare e... no, non riusci questi mi fanno ridere ci siamo? minacce eliminate, aria sicura stai bene pilota? ma più o meno non tanto, è stata dura tu come stai Bt? rapporto danni, i sistemi critici funzionano e nonostante la tua autovalutazione il capitano lastimosa avrebbe detto che hai combattuto bene Cooper grazie ogni volta devo uscire perché io non lo so va bene che facciamo? riconsegniamo tutto un'altra volta? suppongo visto che qua non c'è più niente aggiornamento missione protocollo 2 sostituire modulo il connettore del modulo è in cima a questa parabola è necessario un lancio con una scalata addizionale anche ora secondo me questa ci sta prendendo gusto perché è già la seconda volta noi con questi cavoli di lancio andiamo sempre guarda lì ho già fatto il mani corto ma poi dove mi lanci? scusami non hai calcolato manco niente boom vabbè dov'è c... ok ok perfetto stiamo dentro ciao ciao blisk sono slone ok basta dove è c... ok stai fregando eh allora qua secondo me devo andare in alto ok quindi si segue sempre la parte ho sbagliato non ho sbagliato non ho sbagliato la parte rossa ok perfetto c ipotesi la parabola si orienterà automaticamente una volta installato il nuovo modulo se non si orienta automaticamente preso è in cauda libera che è? ah basta lanci eh scupper la parabola è attiva torna qui e invieremo questo messaggio alla flotta eccellente lavoro ok meno male ma ve la metti nel data ok che ricorda in serio ok faiato faiato attenzione rilevata anomalia possibile titan nemico mi stanno lanciando per bo dove salta che è il nemico non è cercato qualcuno da uccidere decidete voi chi volete e ora distruggetelo stavo a questo qua non lasciatelo andare via via sei morto ribelle è andato è andato è andato ok meritate tutti di morire ma che non vedi più avanti purtroppo di paura eh ok è andato non si avvicinano eh vuoi un combattimento vediamo se te la cavi negli scontri ravvicina o vuoi scappare come il perdito che hai dimostrato di essere ma lì che fetteggia a fare vuoi buttare a te da qualcosa dai è ora di morire e dai lo hai buttato qua a terra quindi vediamo se viene o non viene ma io che potrei cerchiare di sbagliare attacco corpo a corpo ho fatto una morte aspettato quale arrivo eh ci sono ragazzi non so come sono uscito ma sono uscito tutti i sistemi funzionanti e per forza potenza trasmissione al 25% è in aumento 60% tutto bene ci siamo quasi 80% potenza segnale al massimo siamo pronti a trasmettere trasmissione flusso dati in attesa di risposta speriamo ci sia ancora qualcuno la sua comandante briggs qui bt 7274 protocollo 2 proseguire missione inviare informazioni alla flotta assegnata all'unità srs ricevuto felice di sapere che siete ancora laggiù stiamo ricevendo i vostri dati ok missione compiuta bt 7274 il registratore di dati dice che il tuo pilota originale è morto affermativo il capitano tai lastimosa è morto in azione ora sono collegato a un pilota provvisorio il fuciliere jack cooper aspetta lastimosa ti ha assegnato a un fuciliere si non aveva altra scelta ricevuto ti faremo trasferire a un pilota qualificato obiezione cooper è il mio pilota la nostra efficacia in combattimento supera il 90% chiedo permesso di mantenere il collegamento sei fortunato che siamo con le spalle al muro bt permesso concesso è un bel complimento da una macchina cooper grazie ai tuoi dati sull'arca abbiamo seguito la sua traccia energetica fino a una base imc qui su typhon non abbiamo molto tempo andiamo non vale il pupo attenzione l'imc ha creato un'arma da piegamento ha il potere di distruggere mondi interi ma senza la sua fonte di energia l'arca non funziona la missione è recuperare l'arca prima che lasci la base aerea corpo marode armi pronte ripararsi a title vote lo penso che io ma questo veramente lo vediamo nel prossimo episodio ci vediamo al prossimo video bye in l'arca in Grazie a tutti.